Il Teramo piazza il colpo Victor da Silva. Il giovane attaccante brasiliano classe 95 arriva dal Chievo in bianco-rosso con una delle formule più utilizzate in queste settimane di mercato, prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Questo vuol dire che se da Silva dovesse fare bene il Teramo potrebbe esercitare l'opzione ed il Chievo a sua volta per riportarlo a casa una contropzione così da garantire al Teramo una sorta di valorizzazione per questa stagione in terra prutina. Da Silva è un giocatore di grande talento e tecnica raffinata. Ha fatto molto bene due stagioni fa nella primavera a Clivenze dove è cresciuto. Lo scorso anno è stato girato in prestito prima a Pescara, poi da febbraio a Brescia. In riva l'adriatico sembrava potesse esplodere dopo la doppietta di Vercelli ma ha continuato ad avere poco spazio tanto da chiedere di andare via nel corso della finestra invernale di mercato. Addio permeato di polemiche e neanche tanto velate verso il tecnico pescarese Marco Baroni. Queste le prime parole di Victor da Silva che è in Italia oramai da sette anni. Le azioni sono state ottime fino al primo giorno, ho trovato dei ragazzi bravissimi, lo staff pure, quindi mi sono subito integrato bene insieme agli altri. Speriamo di iniziare bene, far bene questo ritiro e poi iniziare i campionati e far bene per tutta la stagione. Sono rapido, veloce, brevilineo, mi piace attarcare lo spazio e far gol ovviamente. Dico sempre prima aiutare la squadra e poi gli obiettivi personali arriveranno sicuramente. Quello di oggi è il sesto giorno di ritiro per la squadra che domani, sempre a Rivisondoli, sosterrà il primo leggero test alle 17 contro una rappresentativa locale direttantistica. Intanto sul fronte dell'inchiesta su Savona Teramo la settimana va agli archivi come quella nella quale il procuratore federale Palazzi ha notificato gli avvisi di chiusura delle indagini. Martedì prossimo, 28 luglio, sono fissate le audizioni volontarie delle persone coinvolte. Hanno scelto di non farsi ascoltare il presidente del Teramo Luciano Campitelli e il DS Marcello Di Giuseppe. Le accuse di illecito loro contestate farebbero scattare rispettivamente la responsabilità diretta e oggettiva della società. Andranno a farsi audire invece dai sostituti federali gli esponenti del Savona. Lo farà l'ex presidente dei Liguri, Aldo Delle Piane, che ha accolto con stupore la contestazione di illecito che tirerebbe in ballo la responsabilità diretta del club. Lo faranno anche gli ex consulenti esterni Marco Barghigiani ed Enrico Cenicola. A quest'ultimo si contesta solo l'omessa denuncia. Il legale di entrambi, Paolo Gallinelli, ha spiegato che avendo ora tutti gli atti in mano, i suoi assistiti potranno dare spiegazioni ulteriori e più circostanziate. Dopo le audizioni volontarie partiranno i deferimenti. Grazie. Grazie.